che non si incartano eh che non si incartano qui ecco lui che sto qui ha già sbagliato brave moto, brave moto brave moto si incartano, si incartano a vedere bravi questo qui è giusto è giusto eccolo là che è passato Nibali ah Nibali bravi 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 benvenuti bravi 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 qui è andata bene che ci sono i cartaggi qui che si pensa cosa vuol dire la livella di quattro fila pensa cosa vuol dire la livella di quattro fila guarda che c'è anche la scopola guarda l'ambulanza la scopola non è la scopola ecco passa l'ambulanza dopo l'ambulanza sono finito c'è un cartaggio finito le luci delle fiamme le luci delle fiamme sono tutti i migliori questo qui è un tavolo è un tavolo